PUNTO IN ALTO SI, PUNTO IN ALTO SI Oggi andrò a sponsorizzare un nuovo singolo di un ragazzo partenopeo che, come tutti i suoi coetanei, ha deciso di inseguire un sogno. Quando si parla di Napoli, subito si pensa a una realtà molto difficile, aggravata anche dalla complicità della criminalità organizzata, come il fenomeno delle baby gang, partorito da situazioni già critiche di per sé, come per esempio, vivere nei quartieri difficili, rimanere delusi da una prospettiva di vita non voluta e avvertire un costante abbandono da parte dello Stato e delle istituzioni. Anche se i tempi cambiano, le strade da inseguire sono sempre due. O ti dai a crimine, oppure scegli una via alternativa, fatta di sacrifici, ma che poi alla fine, se non mommi, potrebbe darti delle piccole soddisfazioni. Ciò nonostante la musica, come qualsiasi tipo di arte, spesso si dimostra un grosso aiuto, soprattutto per i più giovani. È capace di donarti speranza e magari anche un futuro migliore. A volte non è necessario usare tante parole per sponsorizzare un singolo, basta solo ascoltarlo con una mentalità diversa per capirne il senso. Detto questo, vi invito di passare sul canale di Jump, godervi il pezzo e lasciargli un Alec. Non importa tu chi sia e né tantomeno da dove vieni, l'importante è che punti sempre in alto nella vita. Ricordalo, basta solo provarci. Nessuno di noi nasce responsabile della propria condizione di nascita, ma ognuno di noi è responsabile della propria vita. Grazie a tutti.